Il cucchiaio riesce a contenere la quantità di erba per fare l'infuso, ne prende la quantità adatta, si chiude e poi agitandolo nell'acqua rilascia gli umori della foglia dando il gusto al nostro infuso. Questo è un oggetto che serve per raccogliere i fichi d'India, due misure, si innesta il cono più stretto e lungo su una canna, vicino ai fichi d'India ci sono sempre le canne, e permette anche da distanze abbastanza grandi, 4 metri, di andare a raccogliere i fichi d'India senza fuggersi. Come vedete gli altri coni sono di due misure, basta introdurre il fico d'India e piegare la canna e il fico d'India si rompe e rimane dentro il cono. Questo oggetto mi piace perché è quello di prima, perché è un oggetto magro, perché è fatto di materiali poverissimi, perché è impaginato benissimo quel fico d'India. Questo è un tirapugni con una lama, che evidentemente è un coltello, ed è un oggetto magro per cui l'uomo mette due funzioni insieme, tutte e due per fare male, è un oggetto straordinariamente cattivo che io ho visto in un negozio tanti anni fa a 6.000 lire e l'ho comprato per ricordarmi che qualsiasi automobilista che potevo mandare a quel paese lo poteva avere. Grazie, ho finito.